Io ho una teoria che è anche per ridere, però non tanto, il fatto è che da noi i governi cambiano talmente spesso e quando cambia il governo cambiano pure tutti i dirigenti, i direttori, cambia tutto alla RAI, allora che succede? Io faccio programmi che sono sempre andati mediamente bene, vanno direi piuttosto bene, allora che succede? Quando cambiano i governi e poi i direttori e succede ogni due anni circa, non è che quelli appena arrivati la prima cosa è che pensano a cambiare il programma mio, hanno altre priorità, quando magari arrivano al momento di cambiare, li cambiano a loro e quelli nuovi ricominciano da capo, quindi è una specie di vita eterna questa per ora, poi arriverà qualcuno che per prima cosa caccerà via me e allora sarà finito.